Io penso che il nostro mercato di gennaio è stato innanzitutto un mercato per risolvere due problematiche che erano due giocatori fuori lista e sono state risolte perché Martigno è andato a Lascoli e Greco è andato a Foggia che era una situazione che non era giusta e spiacevole ed è stato risolto questo problema. Avevamo l'intenzione di continuare nel cercare dei profili giovani, il fatto che magari prendiamo un giocatore in più se è giovane io ne vorrei prendere 3-4 in più perché per una società prendere giocatori giovani è una speranza non è sicuramente una certezza o una sicurezza di quello che può succedere ma una speranza che un ragazzo giovane possa rappresentare per una società una possibile plusvalenza o una possibile crescita importante che possa dare dei risultati in campo e anche nell'aspetto amministrativo. Quindi questo è quello che abbiamo proseguito. L'obiettivo primario? L'obiettivo primario era di prendere Memosciai e nonostante sia stata una trattativa avviata con il suo agente dove il ragazzo ha sempre dato disponibilità a questa trattativa però giustamente l'ultima parola come diceva il procuratore del giocatore era sempre da dare da parte del Benevento il Benevento ha deciso che il giocatore si doveva muovere da Benevento solamente comprando il cartellino del giocatore che è un giocatore che per me è molto forte, che mi sarebbe piaciuto prendere però comprare un giocatore che ha 29-31 anni e pagarlo un milione che è questo il costo che è costato al Benevento non è una cosa che secondo me potevamo fare, non potevamo ma non era neanche giusto. Noi dobbiamo credere in una squadra che dopo 21 partite era terza in classifica dopo 22 era quarta in classifica, adesso è sesta, settima. Noi dobbiamo credere in questa squadra secondo me, cercare di ripetere il girone in andata nelle cose positive, cercando di migliorare i difetti che abbiamo, i difetti che sono venuti fuori cercando di magari nasconderli Anderson non è una posizione svanita, è una scelta societaria era in mezzo a due o tre trattative poi quando si arriva alla fine il prezzo lo fa sempre chi compra abbiamo deciso che secondo me un ragazzo giovane come lui che ha giocato poco perché è arrivato da poco in Italia, se viene venduto a determinate condizioni il Bari non può rifiutare se viene venduto a una cifra che secondo noi non è abbastanza o abbiamo la speranza visto che crediamo in questo ragazzo di realizzare di più, a metà stagione deve rimanere e abbiamo fatto questa valutazione. Ogni volta bisogna sempre dire che manca qualcosa noi facciamo tantissimi errori, però non continuiamo sempre a dire quando siamo tanti dobbiamo essere pochi, quando siamo pochi dobbiamo essere tanti e quando vendiamo un giocatore perché l'avete venduto, non dovete venderlo se non lo vendiamo, se non lo vendiamo dovete venderlo mi sembra che non troviamo pace. Io penso che in questo momento chi fa il mio lavoro deve trovare la serenità dopo la tempesta ma soprattutto pensare alla prossima partita perché è normale che nessuno si aspettava una partita così io per primo, però il calcio è anche avere la forza di guardare la prossima partita perché alla fine giustamente non si può per tutta la settimana oppure voi lo fate perché è il vostro lavoro. Io in questo momento qua devo capire, devo stare con la squadra, adesso c'è il mercato, con l'allenatore ma anche se non ci fosse, la cosa più importante è pensare alla prossima partita non si può fare, non c'è un'altra, bisogna neanche a volte trovare tanto le cose sono molto chiare, ognuno si ha fatto la propria analisi io mi sono fatto la mia, la condivido con l'allenatore, ne parlo all'allenatore ma la cosa più importante dopo che si è parlato, basta un giorno parlare di quello che è successo secondo me, non è che ci devo ritornare su tutti i giorni soprattutto con il mister o soprattutto con i giocatori noi dobbiamo pensare a Venezia noi dobbiamo pensare a Venezia, andare a Venezia con il coltello tra i denti e cercare di portare a casa un risultato positivo questa è l'unica cosa, no l'unica, è la cosa più importante oggi io l'unica cosa che penso che mi fa sorridere il fatto che fino a 15 giorni fa lui è un ragazzo, è un allenatore che non può andare in giro per Bari perché tutti gli saltano addosso e in una partita sciagurata secondo me si va a parlare di esonere, di pressioni la pressione gliela mettete voi se voi vi divertite a mettergli a pressione, mettetela un'esclusione, capisce che questo è un giocatore che ha fatto 13 gol in 16 partite ha fatto un giurone di andata strepitoso nell'ultimo periodo fisicamente non è più brillante come all'inizio come magari altri giocatori perché magari hanno giocato tanto non c'è un caso Galano nel senso che ma il recupero è certo che il recupero è la via io mi auguro che faccia altre 7-8 gol magari 10 però se un giocatore sta fuori certo che io dico cazzo mettiamo Galano però nella vivente sta fuori di bala eppure Allegri non è che gli danno del matto non penso l'importante è che Cristian sia sereno ma come è? poi è normale che tutti vogliono giocare tutte le partite ma è impossibile è impossibile avere una forma una condizione fisica sempre alta